E se il femminile che con la scusa degli archetipi definiamo universale non fosse così tanto universale oggi ti voglio raccontare una storia inaugurando così una rubrica che è totalmente nuova almeno per il mio canale youtube perché già l'ho un po' anticipata su instagram a proposito seguimi laura.chianda e ti voglio raccontare una storia di una ragazzuola che avrà il potere di rovesciarti come un calzino ed è una dea del sole di Canaan che per chi non lo sapesse Canaan è un'area che quantomeno in maniera un po' grezza corrisponde all'attuale israele palestina libano parte della siria su per giù e che per un periodo è stata anche una provincia dell'antico egitto quindi non stiamo parlando di un racconto che zia ghianda si è appena inventata così per rompere le scatole ma di una storia assai antica i cui frammenti sono stati rinvenuti in una tavoletta che riportava appunto questo poema riferito al dio Baal chi era Shapash? chi era Baal? mo te lo dico e ti racconto anche la loro storia perché la troverai assai interessante intanto Shapash che aveva vari nomi ma a me Shapash mi piace suona strano Shapash questa cosa con le due H altro non era che una dea solare e mettiamocela via già adesso possiamo vedere delle enormi differenze con quelle che sarebbero i sedicenti archetipi femminili dove il femminile è sempre la luna ma non è stato così e proprio per niente dappertutto e da sempre anzi diciamo che sono i greci che hanno spinto moltissimo a quest'idea del maschile solare e del femminile lunare ma sotto il naso abbiamo tante di quelle storie di divinità differenti per esempio gli dei maschi fustacchioni lunari ce ne sono a Iosa così come divinità femminili solari ecco che ci siamo un po' dimenticate quante altre storie, quante altre immagini archetipiche ci siamo perse per strada e insomma Shapash è una dea solare e noi dobbiamo ricordarci sempre che l'esperienza umana sta al centro dell'attribuzione dei simboli dei significati e quindi abbiamo un sole che in quella latitudine è particolarmente vissuto come potente e che come altre divinità solari ha tanto la qualità benefica quanto quella diciamo distruttiva e questo è veramente qualcosa di tipico siamo prima, molto prima la divisione di categorie per cui la luce sta di qua, il buio sta di là, il buono sta di qua, il cattivo sta di là queste divinità vanno lette con altri tipi di lenti esattamente quello stesso tipo di lenti che descrivo nel mio libro introduzione alla teasofia, la dea oltre i dualismi trovi il link se vuoi darci un occhio nella descrizione ma torniamo a noi, Baal, allora si scrive con due A Baal chi è Baal? Baal è il graziosissimo Dio dell'umidità, della fertilità e della tempesta e già qua capiamo che qualcosa di diverso c'è e quella che era secca e che ci dava proprio nel colpire era Shapash quindi la dea solare, mentre quello umido che andava a ripristinare questo equilibrio nella terra rendendola fertile il dio della fertilità era Baal e non erano sposati tra di loro, mettiamocela via perché Baal ce l'aveva bene una moglie che era una guerriera e si chiamava Anath quindi Baal è innamorato e sposato con la dea guerriera Anath Shapash invece la vedremo come dea del giudizio, dea dell'equilibrio, dea dell'ordine dea del mondo di sotto oltre che del mondo di sopra la vedremo come la portatrice della torcia questo era uno dei suoi appellativi, la torcia del mondo dei morti e nonché la vedremo come mediatrice e salvatrice come comincia la nostra storia? la nostra storia comincia con una festa un pochettino com'era nella bella addormentata la nostra festa la fa il dio Baal che però c'era quel dio della morte no, Mott, questo vestito nero scuro un po' quella faccia grigiasta insomma, Baal aveva paura che Mott gli rovinasse la festa e cosa ha fatto? o l'ha invitato? ovviamente come da copione Mott si è giusto un attimino incazzato per questa mancanza di invito cos'è? tutti gli dei vanno a far festa a casa di Baal e io no ma guarda un po' e così medita vendetta e come medita vendetta? parte dicendo la mia festa sarà più grossa della tua e ne organizza una a sua volta solo che questa volta Baal lo invita invita Baal ma non appena d'lindlon ciao Mott, qua è Baal va che ci ho portato lo spritz eh? questo apre la porta e gnam Mott, il dio della morte se magna intero Baal mmm buono questo dio Baal gnam gnam solo che c'è un problemino il problemino è che il nostro carissimo fustacchione è il dio della tempesta e della fertilità e se il dio della tempesta è morto vuol dire che non piove più i raccolti si seccano insomma fame, sfiga e carestia allora racconta il poema che Anath la dea guerriera che era la moglie appunto di Baal non riesce a placare il suo dolore e piange, piange lacrime a fiumi solo che Shapash le assolare se le beve e di conseguenza la terra continua a rimanere arida ma tutto questo piangere non riesce a placare l'ira funesta di Anath la dea guerriera eh cioè la facciamo incazzare Anath la vediamo eh Anath trassuda rancore su tutti i pori Anath se se la lega il dito sei Anath ecco lei che non devi mai fare incazzare proprio perché Anath ovviamente va e massacra Moth il dio della morte che ha ucciso il suo maritino sempre senza rancore ovviamente perché prima lo infilza e lo fa a pezzi con la sua spada e poi proprio perché il disprezzo non era arrivato abbastanza piglia i pezzi li fecca su una macina e trita tutto quanto affinché di Moth non resti solamente polvere dopodiché piglia Moth e lo sparge sui campi solo che neanche così succede niente il dio della morte è sui campi insomma forse forse non è proprio il surrogato di Bal migliore però Anath qua una cosetta ce la dice cioè oltre appunto a non farla incazzare che l'ho già detto uomo e donna avvisate mezzo salvate Anath è un'altra di quelle figure che lei il femminile dolce accogliente coccoloso se lo spalma sul panino a colazione lei è un'altra di quelle figure che ti fa capire che non è che ci sia proprio tutta questa grande immensa universalità nell'immaginare etere fanciulle delicate e mezze nascoste come da palli da luce lunare Anath era una che se gli giravano eri finito Anath era una che stava incazzata e se si incazzava giustamente faceva quello che riteneva giusto ma cos'era qua il problema vabbè abbiamo massacrato il dio Motto ho avuto vendetta ma il lutto per poterlo elaborare necessitava ancora adesso forse si crede questo del corpo dell'amato morto e quindi a questo punto Anath che voleva mettersi il cuore in pace e che ancora non ci aveva in pace ha chiesto di nuovo aiuto alla nostra Shapash e perché ha chiesto aiuto alla nostra Shapash attenzione perché lei poteva vedere tutto non soltanto sulla superficie della terra ma anche nel mondo dei morti e guardate un po' cosa ricorda l'epiteto occhio del cielo ok il sole che sta lì è l'occhio del cielo l'onniveggenza che non è mica stata inventata con i monoteismi deriva tutto dal sommo astro come tre quarti del resto del simbolismo tra la morte la risurrezione i tre giorni tutto mito solare e non solo maschile perché in questo caso era Shapash l'occhio che dall'alto tutto vede e quindi vedendo tutto è anche colei che legifera e regola la giustizia ma questo lo vediamo ecco allora la nostra Shapash che scende nel buio del mondo dei morti e va in cerca dello spirito di Baal e lo trova e lo salva dal mondo dei morti trasformando così la nostra idea solare Shapash anche in una dea salvatrice che principe azzurro scansa a te proprio come mai il sole che nell'immaginario che ci portiamo dietro della cultura greca rappresenta la luce quando invece negli altri miti solari rappresenta sia la luce che il buio proviamo a pensare a cosa succede nel ciclo totale del sole dove il sole resta tale sia durante le ore diurne ma anche durante le ore notturne dove il sole resta tale sia al massimo della sua forza nelle stagioni estive ma anche nella stagione invernale ecco che questo dualismo non ci aiuta proprio a leggere questi miti perché se noi pensiamo che la luce sia il maschile e il sole e il buio sia il femminile e la luna tutte le cose che noi stiamo raccontando guardando un attimo al di là del nostro orticello narrativo non tornano insomma Shabash regina del cielo e del mondo dei morti riporta questo spirito lo ficca nel corpo di Balla cosicché questo ritorna in vita ed è così che anche la terra risorge torna a piovere tornano a crescere i campi torna raccolto la gente smette di fare la fame e dopo sette anni forse il rancore di Anat si è un attimino fievolito e quindi anche Moth il dio dei morti oh non ho scritto il suo nome eh no mettiamoci anche lui Moth così resta più impresso a te che mi stai ascoltando Moth ritorna in vita anche lui ma naturalmente che cosa si poteva fare quando Balla è vivo Moth è vivo questi qua cominciano a scazzare di nuovo non se la mettono via non se la mettono via e danno inizio a una furiosa battaglia che così la terra si trova nuovamente a rischio ed ecco che Shapash vede tutta la scena immaginatevi questa qua sta così no col suo occhio dal cielo a vedere tutta la scena tira un paio di bestemmie che tanto del pantheon fa parte pure lei e va piglia Moth qualcuno dice per un orecchio qualcuno dice con sonori calci nel di dietro e gli dice che deve starsene al suo posto il quale suo posto è il regno dei morti e dopodiché si va a prendere anche Baal anche qui qualcuno dice sempre con suavi parolini dolci e gentili e gli dice caro Baal la tua è la dimora celeste quella lì quindi Moth di qua e Baal di là come si faceva alle medie quando si litigava col compagno di banco ecco che così Shapash si è presa anche il titolo di colei che porta equilibrio tra la vita e la morte ma si è presa anche il titolo di mediatrice colei che media tra gli dei nonché legislatrice e dea della giustizia perché la sua capacità di porre equilibrio sta a significare la capacità di riportare ordine perché ci metto questa enfasi così su questa parolina ordine perché abbiamo questo mito duro a sradicare nella storia del pensiero occidentale per cui il femminile si tanto bella cosa dolce coccoloso ma che casino il femminile o il caos puro e quindi serviva al maschile a mettere ordine perché il femminile sarebbe caos e il maschile sarebbe ordine ma secondo noi chi è che ha deciso di dare questi significati e queste qualità che il femminile sarebbe caos e il maschile sarebbe ordine se non chi lo può aver fatto su via chi può aver descritto se stesso come ordine e l'altro da me come caos andiamo a pescare nella gracia antica chi è che deteneva il potere politico e quello culturale ecco che invece altrove nel mondo ma anche in Europa e se ti iscrivi al mio canale e attivi le notifiche ne troverai altri di video con queste storielle qui così potrai renderti conto di quanto sia piccolo in realtà il riferimento narrativo a quelle categorie a cui siamo abituate cioè quanto poco ci sia di universale in questo tipo di maschile in questo tipo di femminile che noi diamo oggi per scontato e quanto appunto lo ripeto riprendo l'argomento anche in Europa le idee solari fioccavano anzi esplodivano come fiorellini che spocciano nei prati a primavera spero che questa storia ti sia piaciuta puoi conoscere un po' più di me se dai una visitina al mio sito oppure ai miei due social e adesso vorrei che tu mi dicessi nei commenti cosa ne pensi conoscevi questa storia? ne vorresti delle altre? sul tema del maschile e femminile c'è un altro bello scomodo video che ho fatto sul mio canale e se non hai paura di pensare fuori dagli schemi te lo suggerisco qui forse potresti trovarla una visione assai interessante ci vediamo al prossimo video